Musica 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 Ma se non è un po' di quina, ora puoi mandare un po' di quina. E noi siamo un po' di guina. Ah, siamo un po' di quina? Che guina? E noi siamo un po' di quina. Eh sì, così non? Puoi mandare un po' di quina. Ma allora come va? Eh, qui buoni va? Chaceremo un'altra piira. Ah, io vevo l'ospetto. Allora, io lui ho detto, ecco-te-mo, marietta, che tu sois celibata è una festa, che tu diment il d'un po' di quina? Oh! Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Oui. Tu pensais dire à Michel que mangé pas chez elle ce soir? Oui, oui, mais... Comment elle a pris? Eh, je sais pas. Ca fait une demiurre qu'elle parle seul au téléphone. Alors, elle l'a bien pris. Je sais pas si ta copine c'est au qui c'est. Quand elle fait que parler, c'est qu'elle est contente. Fasse-moi le téléphone. Tu lui as dit au moins? Je sais pas pu. Elle arrête pas de parler. Allo Michel, ma... Oh, ma bonnie, tu tombes bien. Tu ne dimineras jamais ce que m'a raconté Mariett. Et elle, franchement, je la retene, par contre, non pas concussion! Oh, oh... Ouh... Chia! Qui faites? Et bien, vous savez? Quel est arte! Ah oui, qui est... Interessante! Si! Je suis là di Watton, eh? Oh, Mési deori! Si chiama... Pompart, di l'ordinatore che disegna da pezzo a ciò che scrivo io. Ahè? E c'è qualcosa, non? Non mi fa male. E cosa hai descritto? Eh beh qui hai descritto, Savelia auxiliaire dell'onferno. Non c'è quello. Guarda l'altro, non ti mangiù, guarda. E questo qui va? Ahaha, buongiorno! Sì, guarda l'altro, Luna, questa piccola l'ovietta, apposta tu non hai rete so chale cosa una spia. Una spia? Ie, dice a tutti che stanno assenta a esa conversazione e che dopo palazzo i sui messaggi e i sui tweet. Ah oh, n'importa che. E come se hai qui li faci a spia, ti l'ai detto? Eh beh, adiù messo una spia non sui telefoni, non? Eh allora, guerra e guerra, no? Veramente n'importa che, eh? Eh, allora, che c'è di nuovo? Ah, non da. Ah, c'è la mia mamma che si è messo in capo di voler fare il lavoro in casa. Oh, sai che stai bisogno? C'è Juju. Il boulinaggio di Bipone, di Bibi che l'ha fatto. Oh, quello boulinaggio è un falato. E due oi alline facendo l'uo e aggiungendo tutto qua di un baino. Eh oh, chi so è alline con il nesano mancù più fa? No, ma, ehi, tu, che sei appena in mistico, chi farebbe un di me come trovare? Eh beh, berri, il giardino davanti al gassi, liscia casuella dall'ambetone e ne faccio una derraza. Eh oh, puoi dire che c'è la bradelina e mi metto un retto. Eh oh, rive l'etapena. La bradelina, giur la tenda la doutta di 3 giorni. Petone, giur la tenda. Qua tenda, giur la tenda. Qua tenda, giur l'essenza. Allora, più pradelina, più tenda, più essenza e più poluzione. Ah, e l'ai ragione. Qua tenda, non ci manca più l'allergia a beber iorni. E più risi, gli bevù. Chérie, tu n'as jamais voulu changer de métier ? Je ne sais pas, j'aime bien ce que je fais. Oui ? Oui, en plus, il me permet de rester assez souvent auprès de toi. T'es adorable. Non, mais tu n'aurais pas aimé assouvir une passion par ton métier. Après réflexion, non. Allez, dis, qu'est-ce que tu aurais fait pour assouvir une passion ? Chef d'orchestre, toi qui dirige des gens, dis ! Gynécologue ! Gynécologue, Gynécologue, Gony. C'est bien gynécologue. Stéven qui y va, Pogacar qui a pris la roue, pourtant ce n'est pas les mêmes cabarits. Mais Pogacar, il est à l'aise depuis le début. C'est comme on va des perfidias à bicyclette, même à dormire. Il n'y a pas de cavie, il n'y a pas de sieste. Il n'y a pas de ces stories et du doping. Il n'y a pas de... Ah, oui ? Si les oabistes perdentent l'herodopo, non ? Oh, oui. Il n'y a pas de teso. Ah, 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 valia bene alors. Si, alors, pensa appena ciò qu'elle n'ha oubliado in Tino et qui diranno davantage. Eh, va bien. Oh, oh, c'est plus. Eh, la mulle. Ah, 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 ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada